Gli esperti del meteo non hanno più dubbi, sta per arrivare l'anticiclone ciclope che porterà un caldo torrido su tutta l'Italia, Alto Adige compreso. Secondo le previsioni l'ondata di AFA durerà per circa sei giorni. Il primo giorno di caldo intenso è atteso per domani. A quanto pare Bolzano sarà la città più calda d'Italia con 35 gradi. Torna a riunirsi martedì prossimo il Consiglio Provinciale di Bolzano. La seduta inizierà con le interrogazioni su temi di attualità. Di seguito l'Aula esaminerà una mozione sulla figura professionale dell'accompagnatore di media montagna e il disegno di legge sull'assistenza sanitaria trasfrontaliera presentato dall'assessore Marta Stoccher. Nuovo record di iscrizioni per il sessantesimo concorso pianistico internazionale Ferruccio Busoni. Sono 335 i pianisti provenienti da tutte le nazioni del mondo che hanno fatto domanda di ammissione alle preselezioni. In base al regolamento però solo 150 di loro potranno essere ammessi alla prima fase di selezione che si svolgerà dal 20 al 29 agosto di quest'anno.